Pulizie straordinarie al cimitero di Condera. Il principale camposanto cittadino, insieme con gli altri cimiteri disseminati su tutto il territorio comunale, è oggetto in questi giorni di un'attività di pulizia straordinaria programmata dall'amministrazione comunale. A darne notizia l'assessore condelega ai cimiteri, Rocco Albanese, che ha illustrato i dettagli dell'intervento. Stiamo facendo una pulizia straordinaria per sistemare tutti e 23 cimiteri, naturalmente in onore dei nostri defunti, perché anche questi luoghi sono sacri e quindi vanno rispettati i nostri defunti per come americano. E quindi c'è un impegno massiccio, ma non solo per la fase di pulizia straordinaria, ma essere in condizione poi per il futuro tenere tutte e 23 cimiteri puliti con un'organizzazione dettagliata e capillare, perché è giusto dove ci sono questi luoghi sacri, rispettarle e rispettare i nostri defunti e quindi dare loro quello che meritano. La pulizia riguarda tutte le aree interne dei cimiteri e sarà completata nei prossimi giorni, in occasione della ricorrenza della commemorazione dei difunti del 2 novembre. Naturalmente, ha spiegato Albanese, faremo in modo che la pulizia non si esaurisca superata la ricorrenza, ma che prosegua attraverso un'attività di manutenzione ordinaria, finalizzata a dare decoro alle aree cimiteriali per tutto l'anno. Tra l'altro noi ci impegneremo come amministrazioni a non finire dopo il giorno 2, ma continuare per tutto l'anno a tenere puliti tutti i cimiteri di cui noi operiamo su tutto il territorio. Grazie. Grazie.